Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo dell'Aprilia perché poche ore fa, ovvero venerdì, Aprilia ha presentato una vera bomba, la nuova RSV4 X30 oppure per 30, una versione speciale basata sull'attuale RSV4 Factory 1100 dedicata all'utilizzo in pista. Un omaggio, se vogliamo, ai 30 anni dal primo titolo e ridato dell'Aprilia nel Moto Mondiale. È una moto veramente fantastica questa, è un mostro da pista, presenta molte soluzioni derivate dalla MotoGP, è bellissima anche come colorazione, abbiamo l'innovativo anche Cucchiaio. Ho letto molti commenti entusiastici su Instagram e su Facebook in questi giorni dopo questa presentazione. Su questo modello però ragazzi ricordatevi sempre che parliamo di soluzioni comunque che rimarranno sempre nell'ambiente pista. Perché questo ve lo dico? Perché ho letto in tanti fare dei paragoni con la novità che Ducati ha presentato sempre venerdì, dicendo Aprilia ha mostrato qualcosa di molto più interessante rispetto alla Ducati, però comunque sia ragazzi, questa RSV4 X30 rimarrà sempre confinata all'ambiente pista. È comunque una moto anche bella costosetta, in edizione anche limitata, però comunque sia, insomma Aprilia ha fatto sicuramente un ottimo lavoro e si prosegue quindi con queste edizioni speciali dopo la RSV4 X e la Tuono V4 X. Qui di fianco vi lascio qualche immagine, questa è la nuova RSV4 X30 oppure anche le Casiber 30. È fantastica assolutamente e ricorda parecchio una MotoGP. La livrea, molto bella, si ispira alla colorazione usata da Aprilia nel lontano 1992 nella classe 125 del Moto Mondiale e fa veramente molta scena. Abbiamo largo utilizzo delle aletterodinamiche su una carenatura ovviamente in fibra di carbonio. Per quanto riguarda le aletterodinamiche le abbiamo più che altro in tre posizioni, un alettone grosso molto vistoso nella parte anteriore davanti della moto, aletterodinamiche anche nella parte posteriore ma soprattutto arriva anche la underwing, ovvero il famoso cucchiaio, questa aletterodinamica che vedete in questa immagine è attaccata alla forcellone che permette di guadagnare un carico aerodinamico del 25% e ridurre la resistenza del 4% che sono valori niente male assolutamente, però comunque sempre da pensare in ottica utilizzo in pista dove serve carico aerodinamico e serve avere anche meno resistenza per abbassare i tempi sul giro. Questo cosa vuol dire? Sì, ottimo il cucchiaio utilizzato sulla RSGP, però comunque nell'ambiente strada non avrebbe senso. Però per chi corre in moto in pista sicuramente può essere una soluzione molto utile appunto per abbassare il tempo sul giro. Altre cose interessanti di questa moto ce ne sono parecchie, in realtà abbiamo un motore con più potenza rispetto alla RSV4 Factor 1100, quest'ultima vi ricordo che ha un motore con quattro cilindri, cilindrata 1099-1100 con potenza 217 CV. In questo caso, grazie comunque allo scarico SC Project in carbonio e titanio, grazie comunque all'aumento del rapporto di compressione, la potenza raggiunge ben 230 CV. Potenza molto elevata su un peso a secco di 166 kg, che è un rapporto peso-potenza veramente impressionante, anche se comunque non è la moto, diciamo, che si può acquistare con il miglior rapporto peso-potenza, in quanto Ducati ha messo in commercio, sapete, una moto messa ancora molto meglio, però in quel caso la moto costava anche più del doppio rispetto a questa RSV4 X30. Per darvi un attimo un ordine di grandezza, 166 kg a secco era il peso circa, chilo più, chilo meno, delle vecchie sportive 600, tipo la R6, ma che avevano una potenza attorno ai 100 CV, 125 CV, no? 120-125, in questo caso peso uguale ma potenza 230 CV, quindi veramente fantastico. Oltre a ciò poi abbiamo anche la centralina manietta amarelli, diciamo, calibrata apposta, e abbiamo anche un sprint filter con specifiche da Formula 1 e MotoGP. Poi oltre a ciò abbiamo anche a livello di ciclistica, sospensioni on-list, diciamo, ritarate dal reparto corse dell'Aprilia, l'impianto frenante è praticamente al top perché abbiamo i doppi dischi T-Drive con pinze freno della Brembo che sono le GP4MS. Abbiamo come cerchi, cerchi in magnesio, marchesini, gommata la moto 120-200 al posteriore con le Pirelli Diablo SBK che sono ovviamente le gomme slick da pista. Questa è un po', ecco, la moto, come è fatta? È una moto nata per l'utilizzo in pista, quindi niente strumentazione con connessione Bluetooth perché non avrebbe senso. Quanto costa questa versione bellissima? Costa sulle 50.000 euro, IVA esclusa, quindi comunque poi c'è da metterci l'IVA e sarà disponibile soltanto in 100 esemplari, ordinabile a partire dal 6 settembre. Vi lascio nelle info di questo video qui in basso il link da raggiungere se vi interessa acquistare questa moto dal 6 settembre. Cliccate su quel link e se avete fortuna riuscirete insomma a portarvi a casa questa bellissima RSV4 X30 o per 30. per chi magari pensa che di queste versioni ne vendranno poche perché è soltanto pista, perché va a costare 50.000 euro, ragazzi, secondo me è un po' come anche se visto per KTM o MV Agusta o anche Ducati recentemente, penso che in tempo 2 o 3 minuti, dipende un po' se non vanno in palla i server, tutte le versioni verranno vendute, tutte le varie 100 unità, perché quando le grosse case come Aprilia o Ducati o MV Agusta mettono in commercio queste edizioni speciali, anche soltanto per l'utilizzo pista, vengono veramente vendute all'istante. Molte volte anche soltanto tipo dai ricconi per metterle magari neanche in pista, magari in una teca, però comunque sia le vendono subito. Quindi se questo modello vi interessa, ragazzi, avete i soldi, presentatevi il 6 settembre al link che vi ho messo. Questo è quanto, ragazzi. Quindi diciamo, vera novità, questo cucchiaio, prima moto al mondo a utilizzare il cucchiaio, però ecco, è una soluzione veramente utile soltanto in pista, su strada, con i vari limiti, non avrebbe veramente senso. Però potrebbe essere che magari il cucchiaio poi arrivi anche magari, anche su strada, magari nelle prossime versioni, delle superbike, delle case giapponesi, magari potrebbero, tra respirazione, e magari, non lo so, su un R1 o su un motore del genere, potrebbe comparire questo cucchiaio. Vedremo. Comunque, dicevo che da questo video è tutto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa moto, se vi piace come è fatta, se non vi piace e se magari, insomma, vi interessa anche acquistarla. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi alla nostra canale YouTube con lo Instagram e di Enel Becker Ufficiale e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao! Ciao!